Siamo giunti alla quarta edizione del concorso Canoro Note d'Oro con immensa gioia che anche quest'anno siamo qua a presentarvi questo immenso concorso Canoro che abbiamo 16 partecipanti che arrivano un po' da tutte le parti quindi siamo veramente soddisfatti ma una delle gioie più immense è quella che avremo qua tantissimi bambini dalle scuole elementari e quindi faccio veramente un ringraziamento proprio forte, forte, cioè grande a tutte le maestre che si sono adoperate a insegnare la canzone che canteranno qua sul palco che ci faranno d'apertura a questa splendida manifestazione è una tradizione che va avanti da tempo qua Valperga come concorso Canoro quindi speriamo che continuiamo ad andare avanti per più anni possibili sono veramente contento di avere qua a mio fianco Fausta Revello di avere Marco Verdoliva che quest'anno è un nuovo presentatore con noi, grazie la ormai già veterana di questo palco Jessica Cavallo, giusto e poi la dottoressa Laura D'Alessandro che veramente mi ha sostenuto tutto questo periodo di organizzazione e devo dirgli veramente grazie a lei e a tutto lo staff della Proloco Valperga Belmonte perché se riusciamo a fare questa manifestazione non è solo merito mio ma il merito veramente di tutti quelli che con ogni suo tempo prezioso che dedicano a Valperga questa associazione riusciamo a fare questo quindi in bocca al lupo a tutti i partecipanti e un grazie veramente di cuore a tutti quelli che vengono ad ascoltare e che partecipano. un ringraziamento va anche all'amministrazione comunale per il patrocinio ed aver concesso la possibilità di farlo qua nel teatro comunale non ci vuole un fiole, ci vuole un fiole, ci vuole un fiole non ci vuole un fiole, ci vuole un fiole Grazie a tutti.